We are Terminus! Più che altro, forse non avete capito, forse non vi è interessato come, quando e perché si fanno queste cose, tutti questi canali, tranne uno o due, hanno scritto, o hanno i commenti, adesso vi faccio vedere, l'hashtag sponsorizzami, cioè, dove cacchi sono finiti, nessuno li trovo più. Boh, vabbè, chissà ne frega, ragazzi, allora, io faccio queste sponsor in una maniera, e non mi potete neanche andare a dire, come cpz, ti relessono, clipz, la bomb, stessa roba, come consiste la sponsorizzazione, ragazzi, io ho fatto apposta 56 milioni di video, io ho fatto qua dei video, andate su video, cliccate in tre secondi, non spiegate nessun secondo della vostra vita, E c'è, da oggi, raga, si sfrutta il canale al meglio, là, quella logo, là, con il mio sponsor e tanto altro, e poi c'è scritto un video di sponsor speciale per tutti. Ragazzi, andatevi a vedere questi due video e capirete tutto, non ditemi più cosa, quando, quello o quell'altro, perché ho un video per farvelo spiegare. Comunque, ragazzi, detto questo, vi consiglio di andare a guardare questo qua, che è il più importante, perché questo qua spiego tutte le sponsor. Ragazzi, oggi non è che posso fare delle sponsor di quelle, ma, tipo, strapotenti, strafie, con pieno di contenuti, perché, ragazzi, non ho cosa a dire, ragazzi, perché ho sponsorizzato quattro canali, che mi hanno chiesto, per favore, sponsorizzaci, e io, come ho, possiamo dire, detto, faccio questa sponsor, io la faccio. Ragazzi, questa sarà la prima sponsor per quanto riguarda YouTube, per questo, ragazzi, vi consiglio di andare a guardare i miei video, la mia pagina Facebook, che è questa qua, dove carico più che altro le informazioni, i miei video, e più avanti comincerò a caricare anche determinate tipologie di post, ma sarà tutta una cosa molto, molto, molto work in progress, quindi non sono ancora sicuro. Comunque, per quanto riguarda questo video qua, ragazzi, andrò sul vostro canale, semplicemente faccio così, copio e incolla, questo qua è un canale che è costituito da due ragazzi, vi dico subito, ed tratterà di vlog, challenge, ed altre cose, che comunque, sinceramente, a me, mi stanno abbastanza simpatiche, come personalità, e quindi un punto in più io lo do. Poi, ragazzi, andiamo ad vedere l'altro canale, che è il canale di Uccio Angel, mi sembra che dovrebbe chiamarsi così, che farà un canale per quanto riguarda gameplay, gameplay in generale, non si è soffermato su gameplay in specifico, scusate ragazzi per l'errore di, come si dice, l'errore nel parlare, e poi ragazzi, abbiamo questo canale qua. Ah, sì ragazzi, scusate, Uccio Angel farà video per quanto riguarda gameplay sul cellulare, scusate, scusa Uccio, ho dimenticato, fa soltanto video per quanto riguarda gameplay sul cellulare. Poi abbiamo Fun and Game, che farà video prevalentemente su cellulare, ho visto questo video qua, tirato caricato con un programma che io conosco, Magisto, che è un programma che ti edita da solo il video, va bene? E poi abbiamo l'ultimo video, l'ultimo video che è Cipizetta. Ragazzi, come avete vedere, io sono uno che mantiene le promesse, cioè inteso, mi dite sponsorizzami, Sponsorizzami, io però vi faccio la sponsorizzazione come l'avevo detta, adesso vi spiegherò tutto piano piano. Adesso facciamo copia e incolla, ed facciamo il quarto, e basta, sopra io li scrivo qua, scrivo. Questi, questi, questi sono i canali della sponsor di oggi. Ok ragazzi, io ho pubblicato, e ragazzi, adesso tenevo a parlare con voi, perché veramente voglio sfruttare queste possibilità di fare delle sponsor nel migliore modo possibile. Allora ragazzi, queste sponsor qua sono delle sponsor fatte per voi. Se voi volete avere una sponsor, che avete un video, per me penso che l'aiuto che posso darvi è pari a zero, e anzi, penso che vi prenderete anche qualche dislike per il semplice motivo che è essere sponsorizzati con sia un video o cinque video, non ha senso, perché ragazzi, una persona che viene sponsorizzata anche da un canale che ha un milione di iscritti, boh, forse se avete un milione di iscritti cambia qualcosa. Ma se venite sponsorizzati da un canale come me, le persone dicono, ok, io guardo questo canale, e cosa mi dà? Guardate, ha soltanto cinque video, e di quei cinque durano o due minuti o hanno la frequenza di grafica in 30p, in 360p. Quindi ragazzi, io vi consiglio, per quanto riguarda la sponsor, aspettate di avere i requisiti minimi per avere la sponsor su YouTube, che è di dieci video, ma questo qua sono velo neanche spiego, perché non avrebbe senso, andate a guardare i miei video, dove capirete meglio questi requisiti. Quindi ragazzi, saluto tutti questi canali, uno, due, tre, quattro, e vi consiglio di andare a guardare la mia pagina Facebook, di andare a guardare anche la mia pagina SoundCloud per la musica, che potrete veramente mettere sotto fondo ai vostri video. Quindi, un commento, un mi piace, ragazzi, se riusciamo ad arrivare a cinque o quattro like per la prossima sponsor, mi fareste un tavore per sostenere. E ci si vede in un prossimo video, qua è tutto, DJ Slash, bello!